Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 20 settembre, ve lo ricordo subito, a differenza del solito lo faccio alla fine, oggi con il TG Tech di Simpli Radio in collaborazione con Italia Top Games si vince Formula 1 2018 per PlayStation 4, su Italia Top Games alle 15 la domanda per vincere, non perdete l'occasione. Ma adesso veniamo a PES 2019, subito gli aggiornamenti live dei giocatori in forma, Ronaldo, Messi, Ronaldo autore di una doppietta, non viene considerata l'espulsione di ieri, Messi autore di una tripletta in Champions ma non c'entra voglio dirvi, lì vedete il simbolo perché ho pescato Messi qualche tempo fa e ne sono ben lieto, giocatori delle Serie A c'è Insigne, assegna contro la Fiorentina e poi tanti altri giocatori, Maturi della Juve, Luiz Alberto della Lazio e tanti altri, chi scende? Scende il cross del Real Madrid, Kane del Tottenham, Modric del Real Madrid, Marcelo, Benzema, tanti del Real Madrid, scende anche Icardi, anche in questo caso si tratta della sconfitta col Parma e non ovviamente la vittoria strepitosa contro il Tottenham, scende Douglas Costa, inutile dire nulla su quella situazione, scende con Dogbian che non sta all'Inter, però c'è Chetabald dell'Inter, c'è un altro ex interista come Medel, c'è Buonaventura del Milan che ha pareggiato con il Cagliari. Ma veniamo alle novità, oggi ho visto che di robini interessanti ce ne sono tanti, ricompense per, allora in tanti giocatori risalto, abbiamo giocato, vediamo se c'è qualche giocatore del campionato italiano, c'è De Frel della Sampdoria, giustamente dopo due doppiette consecutive e basta, diciamo giocatori risalto, poi tanti del River Plate, c'è Draxler del Paris Saint Germain, Hazard del Chelsea e molti altri. Dicevo, tante robine interessanti oggi, mi pare ho visto la ricompensa per la streaming live di qualche tempo fa e tante altre cose, andiamo subito a vedere. Se è stato riuscito a caso di un periodo di attività, sì, questa settimana dovevo completare Spider-Man per la recensione in arrivo di Italia Top Games, sono sceso clamorosamente, ma ci rifaremo prima o poi, non appena avrò più tempo per giocare. Allora, posti in arrivo, vedo solo una cosa, io speravo anche, allora, bonus demo esclusivo, ok, e questo è un regalo speciale per chi ha giocato alla demo, e 10.000 GP ce li prendiamo che non ci fanno mai male. Andiamo un po' a vedere gli osservatori. Allora, pool da collezione, il solito, vediamo un po' Magic Moment Stars, giocatori per tre, vediamo un po' il profilo, 37 giocatori in palle nere, 135 d'oro, 278 argento. Ronaldo Messi, Neymar, Kroos, Hazard, Griezmann, Modric, Cavani, Obla, Kane, Higuain, Marcelo e tanti tanti altri. Si scende, si scende, 81 chiaro, Azieliski, Zaza, insomma, tanti giocatori nel pool 450, diciamo, niente di particolare. Vediamo gli agenti speciali, Player of the Week. Allora, i giocatori della settimana, li abbiamo visti prima, eccoli, Hazard, Pepe, Payet, Draxler, Rozzano, De Frel, Pepe, Eduardo, quelli che avevamo visto prima, solo con 100 monete d'oro. Oppure ci sono quelli della River Plate Club Selection, e qui abbiamo tutte palle nere, e abbiamo Pinola, Armani, Ponzio, Pratto, Perez, Mora e Scocco. Giocatori, tutti palle nere, direi che sono interessanti. Però, però, probabilmente io non feci la campagna streaming, non ero davanti al PC in quei giorni, quindi non l'ho potuto fare. Però io non vedo nessuna ricompensa, e questi sono i soliti agenti top, non vedo nessuna ricompensa per i giocatori PC. Konami ha promesso entro la settimana di dare dei regali per i tanti problemi tecnici avuti per le connessioni ai server di PES 2019 su PC. Per il momento non si vede nulla, speriamo che arrivino nei prossimi giorni. Cosa vi devo dire? Voi ditemi se invece avete avuto la ricompensa per la campagna streaming, che se non ricordo male io non sono riuscito a fare. Vediamo un attimo gli allenatori, c'è Fernando Santos, l'allenatore del Portogallo, Martino, Zetro, Mosev, Pioli, della Fiorentina, Ballardini, Calderoni, è giù di fake o di allenatori senza volto, perché Konami non ha preso la licenza. Pochina roba ragazzi, direi davvero pochina roba questa settimana. Andiamo però a vedere le sfide di oggi, abbiamo la Coppa Challenge Online, One Match Challenge, andiamo a vedere il tempo che si carichi. One Match Challenge termina fra 6 giorni e 18 ore, quindi dura una settimana, 1 contro 1, partita singola, vinci la partita, questo lo potrei provare, agente speciale, giocatori di livello 1, silver più livello 1. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti o su YouTube o sul sito di Talia Top Games se voi avete ricevuto la ricompensa per la campagna streaming di qualche settimana fa. South American Clubs, qui abbiamo la sfida con il River Plate, partita singola, 1 contro Com, ma dobbiamo battere il River Plate, probabilmente agente speciale, giocatori di livello 1, silver più livello 1. E poi il South American Clubs, vediamo, 1 contro Com, vinci tutte e tre le partite, sarà da giocare con grandi squadre di Cile, Brasile e Argentina, anche in questo caso premio agente speciale, giocatori di livello 1, silver più livello 1. Ragazzi, questo aggiornamento è da 5, 5 proprio, forse 5 meno meno, questa settimana davvero poca roba, forse chi avrà la ricompensa per la campagna streaming sarà un pochino più contento, ma in questa settimana davvero vedo poca robina interessante, quindi oggi primo aggiornamento settimanale insufficiente per PES 2019 dopo i gran colpi delle prime settimane. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Fatemelo sapere come al solito, io vi ringrazio come al solito per l'attenzione, ci vediamo giovedì prossimo per PES, ma voi seguite il canale YouTube di Italia Top Games, seguite Italia Top Games perché noi tutti i giorni non parliamo solo di PES, ma di tanti altri giochi comunque molto molto interessanti. Grazie per l'attenzione e a presto, ciao!